Ci vorrà ancora qualche giorno prima di conoscere il nome del successore di Maurizio Lelli alla guida dell'assessorato allo sport del comune di Imola. Ma una cosa è certa, la sindaca Manuela San Giorgi manterrà la delega all'autodromo. L'ha rivelato la stessa prima cittadina, confermando così l'intenzione di gestire più da vicino le questioni legate al circuito, che più volte hanno portato a differenze di vedute anche nella stessa maggioranza. Rispetto al bilancio 2018 dell'autodromo, che si è chiuso con un passivo di quasi 500 mila euro, la sindaca non ha nascosto preoccupazione, ma si è detta fiduciosa sulle possibilità di recupero, soprattutto con il calendario 2020. Penso che ci sia tanto da fare sull'autodromo, soprattutto veicolare l'idea che siamo tutti pro autodromo. Bisogna semplicemente tutelare, in base a una legge che c'è ovviamente, la DPR 304, anche quei pochi residenti che abitano nei dintorni, ma che bisogna puntare assolutamente su grandi eventi, sia motoristici che non, ed è una bella sfida. Io penso di poter aiutare a portare comunque degli investimenti. Il bilancio sicuramente del 2018 ci ha lasciato tutti con la mano in bocca, perché 497 mila euro di perdita è un importo significativo, anche perché è un autodromo pubblico, gestito con soldi pubblici, con finanziamenti pubblici, e sappiamo tutti i milioni che sono finiti nella nostra pista. Quindi un calendario 2018 dove noi non abbiamo inciso, siamo arrivati a luglio del 2018, come sapete i calendari vengono fatti prima, tutti i contratti con le case automobilistiche e anche non, insomma tutto quello che possono essere da maratone o cicloturismo. Sicuramente noi stiamo lavorando sul calendario dell'anno prossimo, lavorando insieme e collaborando insieme per il bene della città.